Buonasera e benvenuti siamo tantissimi nonostante la finale del festival di Sanremo però in realtà probabilmente abbiamo tempo di vederla lo stesso finito l'incontro. Allora prima di presentare il nostro ospite di questa sera per la quale siete qua tutti tantissimi vi ricordo come sempre che domani abbiamo il terzo appuntamento del teatro per le bambini e famiglie che sta andando benissimo sempre tutto esaurito e domani alle 16.30 ci sarà Ricciolo di Luna poi il prossimo appuntamento già l'altra volta l'ho tanto caldeggiato ma io spero che tutti quelli che sono quasi prenoti per sentire Antonio Franchini nome sconosciuto e più ma che condiziona insomma influenza molte delle nostre vite di lettori perché è il direttore editoriale di Giunti e Bompiani ed è universalmente mi viene da dire riconosciuto come uno dei più talentuosi scopritori di talenti raffinati ed è anche uno scrittore di libri infatti con lui parleremo dei libri da leggere da scrivere e anche da distribuire cioè da capire quali sono i libri che possono funzionare possono dire qualcosa ai lettori italiani quindi è uno di quei nomi che appunto non sono notissimi al grande pubblico ma che sicuramente è interessante ascoltare quindi promettetemi che ci sarete così numerosi anche sabato prossimo che noi non seguiamo soltanto i nomi supernoti ma andiamo a sentire le persone che magari non sono così conosciute ma hanno qualcosa da dire. Lo stesso discorso vale per poi l'appuntamento della settimana ancora successiva che chi ci segue insomma con costanza probabilmente si ricorderà che già l'altro anno abbiamo fatto un incontro sui neuroni a specchio che sono stati scoperti da Rizzolatti che è uno scienziato italiano che è stato anche in odore di Nobel perché la scoperta dei neuroni a specchio che sono quelli che quando vediamo uno che sbadiglia sbadigliamo anche noi per simpatia in realtà per i neuroni a specchio. Se non che l'altro anno Rizzolatti non stava bene era in ospedale. Adesso questo signore che oltre a essere uno scienziato importantissimo ha 80 erotti anni e gli hanno tagliato una gamba. Non stava così bene che gli hanno tagliato una gamba e nonostante una gamba in meno che insomma fermerebbe molti di noi anche più giovani lui continua ad aver voglia di andare e fare gli avevamo promesso che l'avremmo fatto tornare e quindi sarà di nuovo con Antonio Gnoli giornalista che leggete tutte le settimane su Robinson, l'inserto di Repubblica e Giacomo Rizzolatti ci parleranno dei neuroni a specchio e anche delle più recenti scoperte. Tra l'altro i due stanno scrivendo un nuovo libro e quindi probabilmente ci anticiperanno qualcosa. Bom, veniamo a stasera. Spero che il nostro ospite si avvicini perché Oscar l'ha fatto già a bere un po' troppo sia in cantina che qua. Allora lui è un attore, è un attore che ha fatto sia delle robe serie quando era più giovane uscito dalla scuola del teatro stabile di Genova, ha fatto Riccardo Terzo, Amleto, ma poi ha cambiato un po' genere, l'abbiamo conosciuto in coppia con Paolo, Luca e Paolo, che erano tra l'altro due dei membri storici dei Cavalli Marci di Genova, gruppo pazzesco, teatrale pazzesco e poi loro due hanno continuato, hanno fatto trasmissioni televisive, hanno le iene, mai dire goli, insomma tantissime. Hanno pure cantato insieme, hanno fatto un disco perché avevano inventato questa... eh? La salteresti questa? E poi appunto conduttore, attore, eccetera, ultimamente pure scrittore, ha scritto un giallo, disturbo della quiete pubblica però col suo modo ironico che ha sempre ed è stato anche, tanto per restare in tema, co-conduttore del Festival di Sanremo nel 2011 quando c'era Morandi, c'era allora e continua a esserci anche adesso e insieme a Paolo e poi a me piace ricordarlo perché adesso l'incontro... scusa devo ancora dire questo perché l'incontro di questa sera si intitola Il Disoccupato. Sì. Buonasera. Però... però lui sta facendo un podcast per Cora Media che potete sentire anche su Spotify che io seguo e questo podcast che si chiama non hanno neanche un amico che vi invito a seguirlo perché dura pochissimo, tipo 6-7 minuti ma è fulminante, l'ha iniziato quando c'erano le elezioni quelle nazionali che poi hanno fatto vincere la Giorgia e... ma lo sta continuando anche adesso e ha fatto la prima, la seconda e la terza serata di Sanremo infatti io ieri sera gli ho scritto scusa ma se vieni da noi come fai a fare il podcast della finale di Sanremo? E lui mi ha risposto non lo faccio. Non lo faccio, no. Luca Bizzarri. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Mi siedo. Mi scuso in anticipo ma non prevedevo che Oscar mi facesse fare il giro delle cantine. Sono belle le cantine, sono molto belle e dentro le botti poi c'è quella roba lì che mi ha fatto assaggiare. E va bene, era buono. Allora questa serata l'ho chiamata il disoccupato ma semplicemente perché mi hanno chiesto un titolo, allora io sto scrivendo uno spettacolo che farò tra qualche mese e il disoccupato era uno dei possibili titoli che non sarà poi alla fine. Perché quando io avevo sei anni, io sono figlio di un carabiniere e quando avevo sei anni in prima elementare a un certo punto arrivarono le tirocinanti e non so se adesso ci sono ancora le tirocinanti ma tu eri alla scuola, c'era la maestra che di solito era una signora anziana e arrivavano le tirocinanti che erano queste ragazze delle magistrali, quindi ragazze di 16-17 anni, credo che sia nata lì poi la mia passione per le ragazze di 16-17 anni, ma però vabbè. E hanno chiesto che cosa volevo fare da grande, lo hanno chiesto a tutti ma soprattutto l'hanno chiesto a me perché ero il cocco della maestra in quanto avendo un fratello cinque anni più grande di me la maestra mia era stata la maestra di mio fratello, aveva lasciato lui in quinta e preso me in prima, quindi conosceva la mia famiglia e tutti e quindi l'hanno chiesto per prima a me perché e io a sei anni ho risposto il disoccupato e non so perché l'ho fatto, credo di averlo fatto per lo stesso motivo che poi mi ha portato qua stasera ed era per farle ridere. Prima di cominciare, adesso andrò a braccio stasera, io detesto improvvisare, qualsiasi cosa voi mi vediate fare e mi abbiate visto fare in televisione non era mai improvvisato, anche quando lo sembrava. Credo che questa sera, e ve lo giuro sulle cose più care che ho, sia la prima volta che sto improvvisando davanti a un pubblico. Non ho nulla di scritto, ho delle cose scritte ma perché voglio farvi degli esempi delle cose che faccio, ma non ho preparato nulla, non so cosa vi dirò. Per raccontarvi che lavoro faccio vi racconto una intervista che David Letterman fece a Jerry Lewis, credo che tutti voi sappiamo, io vedo il colore dei capelli, tutti sapete chi è Jerry Lewis. Jerry Lewis aveva già una novantina d'anni quando andrò da David Letterman e lui entrò, fece una battuta, il pubblico rise e Jerry Lewis disse a Letterman, vedi io ho 90 anni, sono Jerry Lewis, cioè il comico più famoso del mondo, anzi della storia del mondo. Ed è da ieri sera che mi ripeto questa battuta che ho appena fatto e penso se entrerà o no. E ho 90 anni e sono Jerry Lewis, questo vuol dire che io ho una maledizione su di me e la maledizione è quella di dover far ridere le persone. Io credo, naturalmente non faccio nessun paragone di nessun tipo, ma io a sei anni ho dato quella risposta semplicemente perché volevo far ridere l'aterocidante. Ci stavo provando, naturalmente, ma quella è la cosa che poi ha segnato tutta la mia vita. Per cui alla fine forse ce l'ho fatta a fare il disoccupato, perché io non ho ben capito che lavoro faccio. Nel senso che mio fratello sostiene che io non faccia un cazzo dal mattino alla sera e forse ha anche ragione lui, perché tutte le volte che ci presentiamo mio fratello dice, sì io dei due sono quello che lavora, perché lui fa un lavoro normale. Io fondamentalmente scrivo e chi scrive di solito è uno che fa caso alle cose, che vede delle cose e che ci fa caso. Vi racconto un aneddoto che poi è dentro il libro. Una volta io stavo scrivendo questo romanzo, che è un giallo, non c'entra molto con quello che faccio. Ero nel pub sotto casa e c'erano due persone che stavano raccontando di una cosa di lavoro, cioè una cosa che gli era successa in ufficio. Uno del loro ufficio era stato colto in flagrante perché faceva delle telefonate sexy, come dire, stalkerizzava una loro collega. Questo la chiamava e faceva degli apprezzamenti un po' volgarotti, un po' pesanti, ma come avevano fatto a prenderlo? L'avevano preso perché questo balbettava. E quindi questo lo chiamava e faceva... E io che ascoltavo questa cosa, appena l'ho sentita, sono corso a casa e ho scritto un episodio di questo libro in cui c'è questa storia, perché questa storia è meravigliosa. C'è uno stalker balbettante. È un genio, perché è chiaro che ti beccano, perché qualsiasi cosa tu dica, se sei l'unico che balbetta in ufficio, ti prenderanno sicuramente. E quindi questa roba qui è una cosa a cui io ho fatto caso e l'ho buttata lì dentro. Questa è parte del mio lavoro, l'altra parte è recitare. E per recitare bisogna aver fatto delle scuole. So che sembra strano dirlo adesso, perché anche per cantare forse bisognerebbe fare delle scuole, però poi basta vedere Sanremo e dici... E dove? Chi? No, ieri sera... E adesso io non so quanti di voi abbiamo visto Sanremo. Io lo vedo, lo vedevo perché dovevo fare il podcast. A me quello che fa impressione è che quando, per esempio, la canzone di Giorgia, che non era la più bella di tutte, però era l'unica in cui capivi che cazzo stava dicendo Giorgia. Cioè dici, ah ecco di cosa parla la canzone, perché le altre io non sento di cosa stanno parlando. E la stessa cosa succede con gli sceneggiati di Rai 1. Voi capite? Eh? Ma adesso c'è un trailer che gira di un nuovo, che si chiama mare qualcosa, non lo so, che senti uno che dice... Eh? Di cosa parla la canzone? Perché se non se... Ed è una cosa che a noi a scuola ci insegnavano. Io ho fatto l'accademia del teatro stabile di Genova e... Come dire... L'anarchia, cosa di cui si parla moltissimo in questi ultimi tempi? È proprio il contrario dell'arte, anche se non sembrerebbe. Ma io avevo un maestro che si chiamava Marco Sciaccaluga, che purtroppo è mancato, era un grande regista, un grande insegnante di recitazione, che mi diceva sempre il problema non è che non ci devono essere... Le regole ci devono essere. Un artista è qualcuno che conosce le regole e le supera. Picasso sapeva perfettamente come disegnava Raffaello o come disegnava... E sarebbe stato in grado di farlo, ma ha preso quel modo lì. Lui diceva io a cinque anni disegnavo come Raffaello e a sessanta disegnavo come un bambino di cinque. E quello è il tragitto che lui ha fatto. Nell'arte ci vogliono le regole. Se io recito, per prima cosa dovete sentire cosa sto dicendo, perché sennò è inutile. A parte che io poi faccio l'unico mestiere al mondo che ha bisogno di un pubblico, perché qualsiasi altro mestiere artistico, infatti io il mio non lo considero artistico, lo considero artigianale, perché io senza il pubblico sono uno scemo che parla da solo. Il mio mestiere non esiste senza nessuno che mi guardi. Uno può dipingere in casa da solo, può scrivere musica in casa da solo, non può recitare in casa da solo, a meno che non sia un ragazzo con dei problemi. E ce ne sono. Per cui c'è bisogno di scuola. Ed è, secondo me, il vero problema che abbiamo adesso in questo Paese, che non solo per il mio mestiere, ma per tutti i mestieri, nessuno si occupa più di scuola. Abbiamo fatto un ministero che si chiama dell'istruzione e del merito, come se il problema fosse il merito degli allievi. Ma il problema non è quello, il problema è il merito degli insegnanti. Cioè il problema che abbiamo degli insegnanti che, non per colpa loro, sono il gradino più basso della catena alimentare. Sono sottopagati, fanno un lavoro assurdo, e noi ci occupiamo del merito degli allievi. No, bisognerebbe occuparsi del merito degli insegnanti, ma non voglio parlare di politica. C'è già Sanremo per parlare di politica. A me ha fatto impressione questo, non so se siete d'accordo, ma quando sento dire che a Sanremo non si dovrebbe parlare di politica, mi viene in mente che Sanremo è l'unico posto in cui si parla di politica. Cioè il problema è inverso. Cioè che tu di certe questioni, importanti per le persone, ne senti parlare di cose di cui si dovrebbe parlare in Parlamento, ne parlano a Sanremo. Ed è lì il blackout. Cioè quando sento dire che a Sanremo non si dovrebbe parlare di politica, mi viene da dire che la politica non dovrebbe parlare di Sanremo, che quello sarebbe una roba logica, naturale. Ma oggi un mio amico mi ha mandato una foto, e poi ci farò la copertina di Floris Martedì, che io non me lo ricordavo, perché ormai quello che è successo prima della pandemia sembra... ma nel 2019 noi avevamo un vice primo ministro, tal signor Di Maio, non so se ve lo ricordate... era uno che adesso... però allora era vice primo ministro, non si capisce come, che... giuro, lui era vice premier e aveva detto dall'anno prossimo basta te le voto a Sanremo. Ma di che cazzo stiamo parlando? Il vice primo ministro che parla del televoto di Sanremo. Allora, parlavo dei maestri, dei maestri che io ho avuto. I maestri secondo me sono la cosa più importante che si possono avere, che si devono avere in una carriera, in una vita. gli insegnanti. Il mio insegnante, i miei insegnanti sono stati tutti straordinari e ho scoperto a 50 anni anche i più merdosi. Cioè il cattivo insegnante, quello cattivo intelligente, cioè quello che ti dà la legnata, quello che ti dà lo schiaffo, alle volte ti fa più bene dell'insegnante che ti mette a tuo agio. Io a 11 anni sono entrato in conservatorio perché mi piaceva suonare e forse ai miei piaceva che io suonassi più di quanto piacesse a me e ho trovato un insegnante cieco che mi trattava malissimo e in seconda media mi ha bocciato, mi ha buttato fuori dal conservatorio, mi ha fatto cambiare scuola. Io quell'uomo l'ho odiato una vita fino a che ho detto però porca miseria, questo qui è uno che mi ha fatto capire che io il pianista non l'avrei mai fatto in vita mia, potevo starci ancora sei anni, sette anni lì e invece è un cattivo maestro è diventato un bravissimo maestro visto a 50 anni, a 20 l'avrei messo sotto con la macchina. L'altro grande maestro che ho avuto la fortuna di incontrare in vita mia è stato Giorgio Gaber. Io ho fatto quello che sto facendo perché un giorno sono andato a teatro e ho visto il grigio che era uno spettacolo di Giorgio Gaber in cui lui raccontava la storia di uno che entrava in una casa, trovava un topo, cercava di prenderlo in tutti i modi, insomma l'avrete visto, molti di voi l'avranno visto. Poi una volta dentro lo stabile di Genova lui venne a fare 20, 15, 20 repliche e io andai a vederle tutte, tutti i giorni andavo e lo guardavo, tutti i giorni, tutti i giorni, fino a che la bidella della scuola, l'ultima replica, mi disse Luca ti ho fatto un regalo, il signor Gaber ti aspetta in camerino. Allora io andai in camerino, Gaber fumava come un turco, quindi mi offrì una malbora appena entrato e io certo, cazzo mi offri una malbora, e infatti io di quell'ora e mezza in cui abbiamo parlato ho un ricordo fumosissimo perché abbiamo fumato un pacchetto di sigarette in un'ora e lui mi ha detto vai e scrivi quello che ti viene in mente, fai le cose tue. Allora io stasera mi confesso con voi e vi dico e in effetti io questo ho fatto e ho fatto una cosa fondamentale, ho copiato Gaber, l'ho plagiato, soprattutto nei primi tempi. Anni dopo ho avuto la fortuna di fare uno spettacolo al piccolo di Milano scritto da me e da Luporini, Luporini era l'unico autore che lavorava con Gaber, personaggio meraviglioso, 80 anni, fidanzata, 21, fratello, uno che la prima volta che sono entrato in un infatti lo spettacolo poi l'abbiamo intitolato non contate su di noi, perché secondo me è la frase più bella che tu possa dire proprio al primo approccio, non contare su di me, cioè tu fai quello che vuoi ma non contare su di me. Allora vi faccio vedere, l'ho voluto far stampare oggi perché mi faceva ridere, vi farò un esempio, qua a Luporini abbiamo scritto uno spettacolo in cui io e Paolo facevamo Gaber, ma facevamo anche delle cose gaberiane scritte da noi, proprio per far vedere che le avevamo copiate. Allora vi farò un esempio di un monologo di Gaber e di un monologo mio e scoprirete il plagio, cioè scoprirete che diciamo esattamente le stesse cose, questa è una confessione che vi faccio. Comincerei da quello di Gaber, perché è più bello stranamente, ed è un monologo che lui faceva nel teatro canzone e che si chiama l'incontro, non so quanti di voi lo conoscano. E racconta di noi quando incontriamo le persone, ma non le persone uguali a noi, quella è facile, no, le persone che non sono proprio uguali a noi. E fa così, dice e quando sei lì, solo, su una spiaggia deserta, lontano da quella terribile invasione di radioline, telefonini, una terra di nessuno, assolutamente incontaminata dalla civiltà e ti godi il mare, il silenzio. All'improvviso un indecifrabile tintinnare di oggetti in movimento. Arriva il negro. Voglio dire, no, no, è l'uomo di colore. Dai, che faccio? Quello fa finta di dormire è un vecchio trucco che non funziona mai. Ehi, amico! Madonna com'è grosso! E com'è nero! Eh, voglio dire colorato. Colorato di nero, però. Dicono che quelli neri neri sono i migliori, i meno aggressivi. D'altronde l'idea di uno scontro fisico non è certo da prendere in considerazione. Lui è pieno di cinture, sciarpe, capellini, borse, valigie, tappeti, asciugamani, maglioni, insomma, tutto quello che potrebbe portare un camioncino di medie dimensioni. E putopum! Tutto a terra. E ora prova tu a non comprare niente. Guarda come suda, povero Cristo. Chissà da dove viene, in fondo anche lui deve mangiare. Magari con un sacco di figli e quattro o cinque mogli. Giovani. Però che salute, eh! Dopo un po', alle ore quattordici, sotto il sole coccente di agosto, mi rimetto sdraiato con la gioia di aver acquistato alcuni oggetti utili, tra cui una sciarpa di lana, finto cashmere, e un bel giaccone di montone. Benissimo. E quando sei lì, tranquillo, in un ristorante qualsiasi, in compagnia dei tuoi pensieri migliori, sei lì, in attesa della seconda portata, sbriciolando dolcemente, arriva il sordomuto. Voglio dire, l'audioleso viene avanti col suo passo felpato, in un silenzio imperturbabile, posa sul tuo tavolo un piccolo pupazzo e un biglietto con su scritto sordomuto. L'avevo capito. Generalmente non ce la fai a ridaglielo subito, il pupazzo, perché il felpato se n'è già andato. Solo chi frequenta poco i ristoranti può pensare che sia un gentile omaggio seguito da un poetico addio. Io no. Io lo so che torna e sbriciolo più nervosamente. Ma no, ma non è per i soldi, è che non se ne può più. Adesso quando torna gliene dico quattro. Gli dico. Ma cosa gli dico? Eh, non si può neanche litigare. Riaccolo il felpato, certo che poveraccio, se è proprio vero che è sordomuto. Ecco, tenga, un cenno di ringraziamento e si allontana. Rimango da solo di nuovo, sempre in attesa della seconda portata e mi viene in mente che una volta ho visto un film, non mi ricordo bene la storia, non mi ricordo neanche le intenzioni del regista, so che quando uscivi soltanto per il fatto di non essere sordo, muto, ti sentivi una merda. Eh sì, è vero, troppe volte accade di non sentirsi perfettamente a nostro agio. L'esistenza di qualcuno che sta male è una specie di tabù, qualcosa che non vorremmo vedere. È come se dentro di noi ci fosse uno strano senso di colpa che non sappiamo spiegare. E allora, forse per riparare, abbiamo bisogno della nostra buona azione quotidiana. No, intendiamoci, benvenga qualsiasi slancio che possa alleviare le sofferenze di altre persone, c'è solo da sperare che la nostra bontà sia il più possibile pulita. Perché anche la bontà, se è compiaciuta, finta o addirittura disinteressata, non serve certo a procurarsi un posto in paradiso. Sono esigenti i guardiani del cielo. La sola moneta che vogliono è l'amore. Questo era Giorgio Gabri. Allora, io subito dopo aver fatto questo, ho scritto questo, che parla di tutt'altro argomento, ma sentirete che i ritmi sono uguali. Non andatelo a dire in giro, poi siamo tra noi. Questo monologo che io ho scritto, ed era nello stesso spettacolo che abbiamo fatto, si chiamava L'amore Francesca, e racconta di una cosa che molti di voi hanno provato. Racconta di questo, racconta di cosa c'è più bello di dormire insieme alla persona che ami. Niente, dai. Cioè, neanche fare l'amore è così bello. Oddio, fare l'amore è sempre bello. Sempre. È bello. Però dormire insieme, non so, è più intimo, no? Stanotte Francesca si è fermata da me. L'ha fatto così, senza preavviso. Abbiamo finito di fare l'amore e lei mi ha baciato e mi ha detto, posso dormire qui? E certo, amore mio. Lei è venuto così. Non era mai successo prima, anzi, un po' speravo che me lo chiedesse prima o poi. Allora si è alzata, è andata a lavarsi i denti ed è venuta a dormire. Hai visto? Si era portata allo spazzolino. Vabbè, meglio così. Sono belle le coccole dopo l'amore, no? Prima di dormire. La meraviglia è addormentarsi abbracciati. Cioè, che tu abbracci lei, lei si aggomitola sul tuo petto, tu tieni un braccio sopra, le accarezzi i capelli. Sono le occasioni in cui si sussurrano delle parole bellissime, si ride, fino a quando a un certo punto tu le chiedi qualcosa e la risposta è... dorme. Allora per la prima volta capisci che non sei più solo e non lo sarai più e ti addormenti. Poi dopo un paio d'ore ti svegli e non hai più il braccio sinistro. È incastrato tra il corpo di lei e il letto. Il peso del suo corpo ha bloccato completamente la circolazione provocandoti un formicolio simile a un dolore e una semiparesi sotto la spalla. Allora lentamente per non svegliarla tu estrai il braccio dolorante da sotto il suo corpo e lei con una torsione naturale nel sonno si gira dandoti le spalle e portandosi dietro la coperta che tu preoccupato per il braccio non ti eri assicurato di tenere con il piede. Ora anche tu vorresti girarti dando la schiena a lei soprattutto per la circolazione del braccio ma la coperta è finita e non in lunghezza in larghezza c'è solo un rimedio per non morire di freddo ed è rimanere su quel fianco avvicinarsi a lei e mettersi a cucchiaino capito? Eh mica scemo. Quindi sei lì dietro di lei lei se ne accorge quasi svegliandosi si gira di nuovo verso di te e tu che eri sotto di lei ti fai indietro per farla girare intanto lentamente tiri la coperta di nuovo su di te che non si sa mai ma lei in uno stato di semi in coscienza pensa che tu la stia cercando per insomma e ti bacia ecco che dopo un'oretta di sonno quel bacio lì insomma c'è un po' tutto c'è il vino della cena un po' vabbè un bacio piacevole ma non piacevolissimo ecco fortuna che si era portato allo spazzolino a quel punto tu davanti a questa fiatella importante ti giri di schiena e lei si mette a cucchiaino ecco benissimo ecco questo qui attenzione è un momento cruciale perché da lì non potrai muoverti mai più la spiegazione è semplice perché se per caso per distrazione nel sonno tu cambi posizione puoi farlo solo in una direzione cioè di là verso la fine del letto e stai sicuro che lei ti marcherà strettissimo cioè non ti lascerà scampo a ogni tuo movimento ce ne sarà uno suo omologo nella tua direzione fino a quando alle sei del mattino ti svegli sognando di volare e senti che sei lì sull'orlo del precipizio è perché letto a questo punto hai due possibilità o ti arrendi e stai così fino alla sveglia o ti alzi circunnavichi il letto e ti accomodi nei tre metri che lei ha lasciato completamente liberi dimenticandosi però completamente di poter avere uno straccio di coperta addosso perché ce ne ha tutte lei e il mattino dopo accogendoti che nel bicchiere dove di solito c'era il tuo spazzolino ce ne sono due avrai quel brivido lungo la schiena che d'ora in poi chiameremo amore grazie avete notato che la struttura è esattamente la stessa però questa cosa mi è servita avere questo maestro mi è servito poi a scrivere tutto quello che ho scritto dopo fino ad arrivare al podcast che altro non è che un'ossessione quotidiana scrivere è un'ossessione per me è una droga è una cosa che io devo fare continuamente perché ci faccio caso perché 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 per me commentare mio papà faceva il carabiniere però era un cagacazzo mostruoso anche nei carabiniere cioè lui è stato nei secoli fedele c'è ancora la sua divisa in casa però era un rompicoglioni e io credo di aver ereditato forse prima oscar mi ha chiesto questa cosa e non mi sono ricordato di lui era proprio un rompicoglioni era uno che si è fatto un sacco di punizioni perché parlava troppo una volta un funerale di stato non mi ricordo di chi mio papà ha fatto insomma dagli anni 50 agli anni 90 ha fatto il carabiniere 80 ha fatto il carabiniere e da un funerale di stato di fronte a tutta questa retorica si lasciò scappare che la tomba secondo lui era vuota e fu punito e credo di aver preso da lui questa cosa questa 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 voglia sempre di trovare il pertugio trovare il buco nella comunicazione quello che faccio io non è nient'altro che guardare quello che fanno i nostri politici e contestarli la comunicazione io non contesto mai la politica anche perché non la trovo la politica non la vedo la politica io non vedo una politica vedo tantissima comunicazione ma non vedo politica cioè non vedo la politica come amministrazione dello stato delle cose dei beni dello stato io per quattro anni ho fatto il presidente di una fondazione culturale della più importante fondazione culturale ligure che è quella di palazzo ducale di genova io ho avuto degli incontri io una volta ho parlato con un assessore che sulla cravatta c'aveva una ruspa ma come cazzo fai a parlare seriamente con uno che ha una ruspa sulla cravatta io 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 ripeto penso di essere più di destra che di sinistra non lo so è però se dovessi scegli io sono uno che non vorrebbe che lo stato si picciasse degli affari via non lo so però ma come cazzo fai a parlare con una ruspa io una volta un signore molto importante a genova il più importante adesso non farò il nome proprio il più importante mi ha detto vedi luca tu devi fare delle mostre a palazzo ducale che insegnino la gente a mettere la carta nella carta e l'umido nell'umido e gli ho detto signor sindaco questa è educazione civica non è cultura ma che ha saltato proprio l'ora cioè era l'ora prima italiano era l'ora dopo storia dell'arte era quella dopo educazione significa quella prima lei deve insegnare alla gente a mettere la carta e ho cercato in qualche modo di spiegargli che se mi dava i soldi per fare una mostra di van gogh forse i bambini che venivano lì e vedevano i quadri di van gogh e capivano con qualcuno che glielo sapeva spiegare che è poi anche lì difficile che cosa stavano guardando a quei bambini lì dopo non c'era più bisogno di dirgli di mettere la carta nella carta e l'umido dell'umido perché glielo aveva insegnato van gogh invece molti sono ancora convinti che basta dirti è vietato farti le canne e tu non ti fai le canne col cazzo è diverso non va così il mondo però loro sono convinti che vada così e con loro non dico la destra è non dico la destra anzi dico anche quell'altra cosa lì che c'è a parte della destra che la che la come si chiamava dai la che c'è quella roba lì allora vi lascio che poi cominciamo con le domande con una ho scelto una puntata del del podcast perché parla proprio di questa è una lettera d'amore di una storia finita e comincia proprio così poi dopo credo che Oscar debba avere il diritto e lo ius primen octis sulla prima domanda non credo che ce l'abbia solo sulle domande qua non so se con le vostre figlie no non credo no no va bene tra noi è finita mi dispiace che tu lo venga a sapere così ma non trovo altri modi per dirtelo quando finisce un amore così come è finito il mio ti senti un nodo nella gola ti senti un buco nella stomata no questo è coccante va bene dicevo quando finisce un amore non è mai in un momento solo e non ha mai colpa di uno solo quindi mi prendo le mie responsabilità ho sbagliato anche io in questa storia all'inizio ti amavo ero appassionato avevo neanche 18 anni e non dormivo la notte per ascoltarti di giorno ti cercavo avidamente dov'è dove sta mi chiedevo voglio la mia dose giornaliera di politica e ascoltavo i comizi di tutti e mi arrabbiavo e volevo sentire le opinioni e assistere al concepimento delle idee delle ideologie una volta me lo ricordo ancora ho anche votato spadolini che tenerezza pensarci adesso poi forse ho sbagliato anche io eh ti ho un po' dato per scontata ho detto vabbè ha diritto anche lei a qualche svago finché lo svago è pannella con le sue mattane ma va bene dai siamo giovani e non mi sono accorto che piano piano stavi cambiando anche quando è arrivato quell'altro quello ricco con le televisioni beh io ho continuato ad amarti perché per me era importante che tu fossi felice anche con lui e anche se intorno a me gli amici o gli amici mi dicevano molla la lasciala perdere ma non vedi che è una puttana io dicevo no non vi permettete e ti difendevo e ti ho difeso senza muovere un dito senza impedirti di diventare no non riesco nemmeno a dirlo e ogni volta ho detto dai ora c'è Renzi e si riprende no niente ora c'è gentiloni no no come un tossico cercavo l'emozione della prima volta e poi il disastro la prima volta che mi hai mandato a fare in culo tu a me che ti amavo e tu mi hai mandato a fare in culo e mi hai presentato Vito Crimi Toninelli e Toninelli e Razzi e Scilipoti e Taverna a un certo punto mi sono aggrappato a calenda ho detto dai e lui si è messo a fare pericle ad Atene poi ieri questo l'ho scritto in tempi qualche mesi fa poi ieri ho visto il ministro degli esteri avete preso De Gasperi, Fanfani, Saragat, Nenni, Moro, De Michelis vabbè ma era bravo pure De Michelis perché almeno De Michelis non si è mai fatto sollevare dai camerieri di un ristorante sulle note di Dirty Dancing addio politica mi hai fatto innamorare, arrabbiare, preoccupare, indignare, soffrire, emozionare adesso a guardarti fai cagare eccolo basta vino l'anghe del biologo l'anghe del biologo l'anghe del biologo senti questa botte e senti questa è diversa vero? senti questa e si cazzo ne ho già sentite tre così ho fatto un'ora, mezz'ora così no dovete sapere che che lui beve solo Pinot Nero di Borgogna è tipico è tipico dei grandi artisti per esempio Paolo Conte il camerino si fa portare sempre del Bordeaux però Bordeaux c'è un po' roba non potete bere bere roba non strana che siamo allo stesso è da stasera di Genova i genovesi sono abitudinari la loro ordinazione più ripetuta nei ristoranti è il solito cioè tu potresti a Genova aprire dei ristoranti con scritto menù il solito loro sono così gli piace rifare le stesse robe nel paese più biodiverso del mondo allora volevo dirti che secondo me mettete ascoltato sei una roba tanto anch'io è tutta la vita che copio e mi trovo da Dio copiare secondo me è la cosa più furba onesta veloce perfino poetica che c'è copiare non imitare tu non l'hai copiato l'hai imitato cioè tu non l'hai imitato hai copiato i valori base di Gaber e li hai portati nella tua storia c'è anche un po' di Walter Chiari in te tu non puoi saperlo perché non c'eri io c'ero certo che c'ero troppo c'ero no no si trovo un picco Walter Chiari è un altro grande allora non te la faccio io la prima domanda perché c'è il domandiere il nostro domandiere Andrea allora io confesso ho un qualcosa simile a Luigi Di Maio siamo nati lo stesso giorno però non è grave volevo chiederti io quando ho letto il titolo della tua lezione di questa sera pensavo si sentirà disoccupato perché oramai fanno tutto da Roma cioè noi abbiamo i politici che fanno i comici e forse i comici dovrebbero iniziare a fare politiche ci hanno già provato guarda hai ragione ragionissima ed è anche molto spesso una lamentela che io faccio verso guarda l'altro giorno io non so perché ho il numero di Bonaccini ma ho il numero anche della Meloni perché ogni tanto scrivono perché si offendono di solito e dopo l'affaire Giarrusso ho scritto proprio a Bonaccini ho scritto la smettete di rendermi la vita così facile perché io fino a un po' di anni fa dovevo scrivere delle cose adesso mi basta citare delle cose se voi guardate ma sinceramente la copertina di Floris è una citazione continua cioè io non scrivo battuti io faccio vedere quello che scrivono loro su Twitter e sono terribili loro e purtroppo però non sono terribili loro che dici vabbè c'è una parte che sono scemi l'altra no e no sono tutti uguali e si inseguono nella scemenza cioè Letta a un certo punto ha cominciato a mettere degli hashtag a caso così e a fare delle robe che però per me non allora alla fine io credo che quello che sta rovinando il mondo della politica sono i social media manager cioè è banalmente l'università cioè noi adesso abbiamo delle università che insegnano comunicazione e non insegnano una minchia perché quelli lì laureati in comunicazione poi quelli più bravi non gli scarsi quelli più bravi poi vanno da Calenda e gli dicono pubblica la foto dei piedi perché Calenda ieri ha pubblicato la foto dei piedi come Chiara Ferragni ma dico ma cazzo ma ci sarà uno nel team di Calenda che gli dice Carlo la foto dei piedi? no anche perché ha dei piedi abbastanza impresentanti ma questo però uno che glielo dica e hai ragione tu cioè il problema però è che noi adesso assistiamo a questo sfacelo che si è comico ma minchia però poi quando andiamo fuori ci dicono voi siete quelli della guarda questa è una cosa che ti riguarda scusa se mi dilungo io ho fatto un esperimento e l'ho messo in una copertina di Flores un po' di tempo fa se tu guardi i politici italiani tutti se tu cerchi tutti i politici italiani hanno una foto con la pizza tutti poi ci rompiamo il cazzo che noi siamo quelli la pizza e mandolino ecco tutti hanno la foto con la pizza non ce n'è uno che non abbia una foto con la pizza da Salvini a Di Maio a Letta a Di Battista tutti con la foto con la pizza in mano sai chi è l'unico di cui non ho trovato la foto con la pizza? Draghi vi dice qualcosa questa roba? grazie poi io e te abbiamo un amichetto in comune l'uomo libero cioè il nostro ministro della difesa che è anche nostro conterraneo Crosetto? non è tanto amico mio visto che mi minaccia regolarmente ho visto appunto io ho scoperto oggi tramite lui che ricevo i suoi tweet perché gli ho scritto una volta commentando una sua cosa e ho scoperto che pur non seguendolo ricevo i suoi tweet adesso fortunatamente avendo altro da fare fa dell'altro e scrive un po' di meno no 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 è quello il problema no no fidati che continuo a scrivere anche l'altro giorno ancora mi ha mi ha attaccato su twitter e io gli ho scritto in privato io gli ho detto ma secondo te è normale cioè io diciamo facciamo così io ho scritto una cazzata va bene ho scritto una più grossa cazzata della terra va bene secondo te è normale che un ministro della difesa scriva su twitter a un comico che ha scritto una cazzata ma in che mondo vivi ma ce l'hai un amico che ti dica dai ma lascia perché così così non va più bene anche perché adesso questa roba certo siamo lontani anni luce non ci sarà mai un problema democratico in questo paese ne sono convinto però cazzo non è tanto bello cioè nel momento in cui il ministro scrive al comico è chiaro che non succederà mai però è così che si comincia eh cioè è così poi sono assolutamente certo e dirò di più sono anche assolutamente certo che Crosetto alla fine non sia neanche uno dei peggiori non mi sembra per niente un delinquente e ripeto non ho nessuna non è che perché è di destra allora deve essere per forza no però sta roba qua non l'hanno imparata cioè non hanno ancora imparato che ci deve essere una divisione netta tra chi fa ridere chi fa informazione e chi amministra lo Stato perché se no domande alzate la mano chi vuole fare delle domande Luca è pronto anche perché sono le 7.20 io ho già bevuto come a mezzanotte ma il bello è da venire parliamo dei social il tema è che questa è la prima generazione di politici nella storia d'Italia che ha a che fare con questa nuova invenzione incredibile che è internet che è il mondo dei social e quindi sai quando le nuove invenzioni all'inizio non riesci a domarle bene come col fuoco ti bruciai i piedi e non le sanno domare ed è arrivata proprio l'invenzione nel loro mondo che è quello della comunicazione si sono resi conto che questo mondo qui ha deciso che l'opinione è più importante della verità quello che conta è un'opinione perché mandato un'opinione su questi mezzi pazzeschi che abbiamo inventato diventa lei la verità quindi spesso quando mi chiedo ma perché ha vinto la destra da parte le tecnicality di mettersi insieme perché sono più bravi nettamente più bravi sul mondo dei social hanno gruppi di lavoro migliori che non quelli di centrosinistra e conta ma anche con storie tu avrai seguito la storia magari così la commentiamo della Meloni poverina che l'hanno attaccata perché ha portato la bimba da qualche parte a Bali non mi ricordo più il posto a Iti ebbene e c'erano due articoli segnalati del Corriere di Repubblica che aveva attaccato sono andato a leggermeli e non dicevano niente mai nessuno l'ha attaccata ma il suo gruppo ha pensato bene di innescare una storia di questo tipo per difendersi da un nemico la stessa storia sta partendo con i francesi secondo me scusate mi prenderanno tanti nemici ma il popolo più in gamba che abbiamo in Europa non c'è paragone guardi solo leggerò sei volte noi i libri non puoi farci niente adesso ci sono questi colpetti contro i francesi e a noi italiani piace parlare male dei francesi quindi io sono molto più pessimista di te che vuoi aprire ottimista e invece lo sei perché hai dato un colpettino hai detto si comincia così si comincia così e Crosetto ti garantisco che è il più democristiano di tutta la banda è il mio amico proprio una brava persona non è certo fascista però veramente l'uso dello strumento con cui loro non per te è più semplice tu sei un attore sei quel mondo lì sei uno scrittore per loro è un po' più complicato e a volte fanno dei danni non sono d'accordo con te su una cosa soltanto cioè su loro sono più bravi a usarli gli altri sono meno bravi allora secondo me ci sono due problemi distinti loro non è che sono più bravi a usarli ma loro esistono cioè la destra in Italia esiste la sinistra non esiste è difficile raccontare una storia che non c'è loro raccontano una storia la destra racconta una storia che c'è la sinistra prova a raccontare una storia che però non c'è la storia per cui è difficile da raccontare la seconda cosa quella sulle montature come quella della Meloni quella lì secondo me non è tanto un merito loro ma è proprio come funziona quel canale lì cioè noi ormai passiamo giorni ore a parlare di un'indignazione del giorno dell'ora che dopo 48 ore non esiste più e che probabilmente non esisteva neanche in quelle 48 ore lì in cui noi ne parlavamo guarda io racconto sempre una cosa che a me ha aperto gli occhi sul mondo dei social network è breve anni fa io e Paolo abbiamo fatto una canzone in un programma per Canale 5 un centone si chiamano, sono quelle canzoni dove cambi il testo e tieni la musica ed era gente di mare la musica e la canzone era sui marò allora il testo raccontava doveva ancora risolversi per poi come si è risolta la roba dei marò e questi due erano ancora là in India e a me faceva ridere il fatto che erano anni che questi qui erano lì e chiunque andasse in una posizione di potere diceva adesso ci penso io ragazzi li portiamo a casa e quelli erano sempre lì come Chico Forte adesso ognuno arriva e dice ma quelli erano sempre lì ognuno ne faceva propaganda elettorale ma poi quelli erano sempre lì quindi noi abbiamo fatto questa canzone in cui raccontavamo questa cosa raccontavamo che la politica prendeva in giro questi poveretti che erano ancora lì questo indipendentemente da quello che uno possa pensare di quella storia o meno il giorno prima che questa cosa andasse in onda io ho pubblicato una foto del set in cui c'eravamo io e Paolo vestiti da marò senza commento immediatamente è partita l'onda social che poi sono 20 scemi eh cioè quante volte che leggete bufera social sono 30 persone o 300 ma non di più Luca e Paolo prendono per il culo i marò come vi permettete quelli sono i nostri soldati era solo quella foto lì eh e io dentro di me pensavo vabbè non hanno capito e non mi sono neanche dannato a spiegarlo che avevano sbagliato indirizzo perché ho detto vabbè tanto domani va in onda lo vedono e quando vedono che l'obiettivo della satira non sono i marò ma anzi sono i politici che usano i marò tutto si placa il giorno dopo è andata in onda la cosa non è cambiato un cazzo perché? perché ormai era partita ormai noi eravamo quelli che hanno preso per il culo i marò una settimana dopo Gasparri ha scritto ecco due scemi che prendono in giro i nostri marò e io gli ho risposto parla di una cosa che non sa come le capita spesso nella sua vita e lì è partita un però ma perché e ancora adesso ancora adesso io ho la sfortuna ho la fortuna non lo so di abitare di avere una abitare no abito a Genova ma ho una casa a Milano in città studi e per me c'è un appuntamento annuale bellissimo che è la commemorazione di ramelli che dopo il 25 aprile tipo il 27 e il 28 aprile di questo povero ragazzo di destra che è stato ammazzato dai comunisti quindi però cosa succede quel giorno lì? sotto casa mia c'è il raduno dei nazisti dell'Illinois cioè ci sono proprio proprio uguali ai nazisti questi qua con le fiaccole ogni anno che per me è una festa anche bella perché è l'inizio dell'estate per me cioè io quando vedo i nazisti dell'Illinois dico dai che viene il bel tempo vi fanno tenerezza perché voi non sono tanti però sono fieri oh ma tipo l'anno scorso stavo rientrando a casa e sono passato in mezzo a questo corteo no? che poi sono molto preciso ci sono a distanza con le fiaccole così e uno di questi anzi una signora che era lì che probabilmente aveva il figlio lì con la fiacola mi ha guardato e mi ha detto bravo che hai preso per il culo i marò e io mi volevo quasi ritenere a dire no signora guarda che io non lo beberò però mi sembrava anche pericoloso spiegarglielo in quel momento però è pazzesco come anche la storia della figlia della Meloni secondo me non è una roba della destra è una roba che ormai ecco c'è parte una roba parte un'onda che non è di acqua e e quell'onda lì non la fermi non la fermi perché ormai è andata ormai è io l'altro giorno ho fatto un un tweet su sul fatto che a me ma a me io poi magari sbaglio io sono figlio di un carabiniere lo ripeto cioè ho un massimo rispetto per le forze dell'ordine a me il fatto che all'arresto di Messina Denaro si sia parlato di grande vittoria dello Stato dopo che trent'anni che uno è sotto casa sua e tu lo arresti a me è stato una minchiata ma non perché cioè io sono stato massacrato perché ero amico cioè il 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 giornale non il twitter il giornale ha pubblicato un articolo dicendo che a me aveva dato fastidio che avessero arrestato Matteo Messina Denaro io gli ho dato dei coglioni e loro probabilmente mi quereleranno il mio avvocato mi ha fatto un culo così però che cazzo li vuoi dire sei un coglione a uno che ti dice così no? cioè a uno che non capisce che tu hai detto che non ho detto che brutto che hanno arrestato Messina Denaro ho detto io non me ne vanterei cioè è una sconfitta non è una vittoria però ormai io tra dieci anni sarò quello che era dispiaciuto perché hanno arrestato Matteo l'opinione domande domande dai forza la ne abbiamo due buonasera buonasera ritorno alla questione della Meloni sull'articolo della Repubblica quando lei è andata a Bangkok e ha portato la figlia c'è un modo sottile nella comunicazione non per creare astio verso una persona la Repubblica titolava così la Meloni porta la figlia a Bangkok lei a congresso e la bambina in piscina collattata questo è il modo è il modo per perdere le elezioni esatto si chiama modo per perdere le elezioni e lì la gente sta strozza coi soldi nostri chi gli ha pagato i bambini e funziona così funziona anche se l'articolo non diceva niente però quel titolino ma quando le hanno rotto le balle per il papà spacciatore il papà della Meloni ha avuto dei problemi che l'hanno arrestato che aveva una barca piena di fumo che poi cosa c'è di più affascinante di un uomo che solca i mari della Spagna con una barca piena di hashish cioè cazzo è cortomaltese capito e questi hanno pensato che fosse una roba per incularcela ma no era la roba più affascinante del mondo capito e hanno tentato di attaccarla su quella roba lì quindi c'è un modo sottile di non dire niente contro ma di scatenare diciamo l'odio di classe la bambina con la tata a Bangkok con la pignacolada funziona così la comunicazione è anche sottile non è dire la Meloni è una stronza che ha portato la figlia c'è un modo molto furbo molto furbo molto poco furbo perché poi alla fine ti ritorna tutto e così imparano si prende un altro social manager visto che fino adesso abbiamo parlato di cose futili parliamo di una cosa seria il Fanta Sanremo sai che non so cosa sia e me l'hanno spiegato stasera io non ho cioè ho idea di cosa possa essere ma non so cosa sia e non me ne sono occupato perché da quando ho fatto Sanremo faccio fatica a occuparmi di Sanremo nel senso che io ho vi dico solo una cosa quando è finita ha vinto Vecchioni il mio anno chiamami ancora amore è finita sabato sera è finito lui ha cantato chiamami ancora amore chiamami sempre amore è finita si sospente le telecamere io ho cominciato a piangere e ho pianto fino a mezzogiorno del giorno dopo per il carico di responsabilità che mi sono sentito per quel mese anche perché non perché quando sei lì ti sembra di fare davvero una cosa da cui dipenderà la tua vita e anche la vita del paese non ti rendi conto che è una cazzà cioè che perché poi te ne accorgi dopo un giorno mi fece questo racconto Enrico Ruggeri che secondo me è proprio vero lui mi disse vedi Anna Oxa o io se usciamo dall'hotel Globo che è quello lì proprio di fianco all'Ariston se usciamo il venerdì del festival di Sanremo usciamo e fuori ci sono 8.000 persone e noi non riusciamo a fare più di 3 metri perché quelle 8.000 persone vogliono solo una foto con noi un autografo con noi parlare con noi poi sabato sera c'è la finale se per caso noi non andiamo via da Sanremo rimaniamo lì il lunedì usciamo dall'hotel Globo non ci caga nessuno ma gli stessi che erano lì il venerdì ma è vero cioè il festival di Sanremo è la cosa più importante e se ci pensate è esattamente il festival di Sanremo è esattamente come le frasi dei politici cioè contano solo nel momento in cui le dicono il festival di Sanremo conta solo nel momento in cui c'è appena è finito basta chi ha vinto l'anno scorso? boh esattamente come le frasi dette dai politici le dico il giorno dopo basta l'ho detta ieri adesso penso un'altra cosa cioè da noi è tutto paf via però in quel momento lì io arrivavo alle conferenze stampa al mattino e avevo di fronte da Renato Franco del Corriere della Sera a Giovanni Bilotti del Corriere di Forlimpopoli tutti e se mi scappava una scoreggina ha scoreggiato ed era tutto importantissimo interrogazioni parlamentari e lunedì via che è esattamente la fotografia del paese se ci pensate sono qui dietro ciao ciao vi ho dato le spalle non ti preoccupare la prima domanda è eh relativa ai fatti di Genova che ti riguardano che cosa è successo insomma mi ha colpito molto il disoccupato e l'ho collegato poi alle cose che io ho letto relativa alla tua storia che credo siano state piuttosto forti anche sul tuo vivere, no? sul tuo quotidiano la seconda invece che ti dico è che sono contento che ci sia Sanremo così gli diamo della carne da bruciare sulla griglia avranno elementi per cui discutere e portarci avanti nei prossimi mesi con delle situazioni ti chiedo perché noi siamo dei semplici umani che vivono su questa terra che cosa possiamo fare? a me lo chiedi è un'opinione un parere non un consiglio tantomeno no, non lo so non lo so io come diceva Guccini io come sempre faccio quel che posso cioè oltre quel che posso non faccio non sulla questione di Genova io penso che tu sia parlato di Palazzo Ducale ma no ma semplicemente lì è stato divertente perché io sapevo da mesi che la mia posizione era in bilico ma era in bilico non per i risultati del palazzo che invece sono stati meravigliosi e grazie a Dio sono riuscito a mollare il palazzo con due milioni di PNRR che sono arrivati con la possibilità di e questo non grazie a me ma grazie alla direttrice che ho messo che è una che è ancora lì e che è bravissima ma lì il problema della politica è questo che non che che loro pensavano che io potessi essere molto più maneggiabile ma no perché io non sia ma io se devo essere maneggiabile cioè se devo essere maneggiabile lo sono se devo raggiungere un risultato e per raggiungere quel risultato devo scendere a compromessi con la politica lo faccio perché mi interessa il risultato se rappresenta un'istituzione per me l'istituzione viene prima di tutto per me palazzo ducale veniva prima dei miei pensieri politici o delle miei io dovevo portare a casa un risultato e per portare a casa un risultato avevo bisogno del comune dalla mia parte del regione dalla mia parte quindi di Toti e di Bucci dalla mia parte e non mi sarei mai messo contro di loro in maniera strumentale perché avrei dovuto farlo il problema è che quando io sono arrivato ho guardato tutte e due anzi non quando io sono arrivato quando loro mi hanno chiesto di andare che io ero a casa che mi facevo i fatti miei loro mi hanno chiesto di prendermi cura di palazzo ducale e gli ho detto lo posso fare però sappiate che il mio mestiere è quello di prendervi per il culo non potete chiedermi di smetterla di prendervi per il culo e Totti mi ha detto no no anzi devi continuare a prendere per il culo noi e io ho continuato perché perché gli ho creduto forse sono stato ingenuo io nel senso che a me sembrava ci fossimo chiariti cioè devi continuare per me vuol dire tranquillo ecco e poi quando ho continuato però ma devo dire non tanto Totti perché Totti è uno è Bucci cioè diciamo che Totti ha le mani un po' più libere a Genova Bucci invece ha dietro dei fratelli d'Italia che gli sto sul cazzo proprio tanto ecco e anche quelli con la ruspa sulle cravate che che io non capisco davvero come un uomo adulto possa avere una ruspa sulla cravatta davvero è una cosa è una cosa che anche se ci tieni alla ruspa però sulla cravatta sei proprio pirla cioè io davvero una cosa cioè io io sono di destra capite? cioè io sono però poi Genova ha un sacco di altri problemi che che vi racconto perché spero che non li abbiate anche voi cioè Genova è una città che si guarda indietro cioè io se voi pensate a Genova a cosa pensate? pensate alla focaccia al pesto quello stramaledetto pesto io lo odio il pesto io odio il pesto io lo adoro ma non perché non mi piaccia eh però non possiamo parlare sempre solo di sto cazzo di pesto è Cristoforo Colombo è il pesto cioè Genova ha dei Rubens nelle chiese e non lo dice un cazzo di nessuno cioè e quando devono fare lo spot per Sanremo è il minchia di Colombo è il minchia di pesto è il minchia di focaccia noi non possiamo continuare a guardare a vendere quella città per quello che è stata perché non lo è più nel 1990 Genova aveva un milione di abitanti adesso ne ha 500.000 di cui 100.000 equadoregni che grazie a Dio ci sono loro se no saremo 400.000 perché siete tirchi e non fate figli perché costano no perché siamo totalmente scollegati dal resto del mondo perché siete il popolo più alziano d'Italia allora il mio collegio elettorale quello dove sono andato a votare io è il collegio elettorale italiano con più over 65 il collegio elettorale più vecchio d'Italia quello dove ho votato io quando io avevo 18 anni andavo a Milano a fare teatro c'era un treno ci metteva un'ora e 45 siamo andati su Marte nel frattempo abbiamo mandato un modulo su Marte il treno da Genova a Milano ci mette un'ora e 45 e nel frattempo abbiamo mandato un modulo su Marte e non siamo riusciti a fare una cazzo di galleria a Tortona che sarà più facile no? ecco non ce l'abbiamo fatta condivido Genova io lo dico da anni è la più bella città d'Italia per me non vi è dubbio prendetevi due giorni andate a fare i turisti a Genova via Garibaldi via Garibaldi una giornata Genova è bellissima e in più io aggiungo la cucina Ligure il pesto no la cucina Ligure la cucina Ligure è la cucina più importante secondo me tra tutte le regioni d'Italia batte tutti la grande cucina d'Italia ma va ma va non è vero noi siamo comici e cantautori tutte le robe angoscianti le abbiamo cioè o tristissimi o che combattono la tristezza con la satira abbiamo ancora una domanda il tempo per una domanda poi andiamo perché magari qualcuno di voi piacerebbe vedere Sanremo stasera c'è un sacco di prego ma allora io sono un fedele follower del tuo podcast e ho adorato la puntata su Gianluca Vialli e me anche perché sono giuventino e ho adorato come hai trattato il tema tantissimo provo a farti la domanda un po' riferita a come tu vivi quelli che tra virgolette ti odiano no gli hater diciamo così ora visto che tu un po' lo eri no? eri un suo hater all'epoca ma sono venti sono venti no sì 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 no io oddio anche nel nel podcast dico che sì cioè è chiaro che noi io non è che lo odiavo Vialli io lo invidiavo che era diverso perché io avrei voluto essere lui perché a parte che ci bastonava ogni derby tranne uno però quello più importante allora c'è una puntata che non so se andrà mai in onda del podcast che io ho costruito la settimana scorsa due settimane fa ma non l'ho costruita da sola allora a un certo punto ho fatto un esperimento uno a me ogni tanto proprio per le posizioni che prendono mi insultano mi minacciano mi fanno di tutto però ribadisco sono sempre cinque scemi uno su instagram mi ha scritto un messaggio privato che recitava così cagati in faccia e io ho preso la palla al balzo gli ho detto vai che facciamo una puntata del podcast e gli ho scritto ok perché? e ho cominciato a cercare di intavolare una discussione con un signore adulto di circa 40 anni sposato con dei figli con un lavoro che mi aveva scritto cagati in faccia e adesso ho fatto registrare le sue parti da Pablo Trincia è diventata una roba lunghissima perché lui ha cominciato quando gli ho risposto lui mi ha ririsposto dicendomi no perché mi stai sui coglioni e io gli ho detto ok va bene ti sto sui coglioni perché? quest'uomo non è riuscito a scrivere allora vi dico solo perché io poi sono leggermente tignoso in quanto genovese questa discussione è andata avanti per quasi quattro ore con io che continuamente gli buttavo la palla di là e gli dicevo ok spiegami perché cioè hai ragione tu sono una merda devo cagarmi in faccia spiegami perché quest'uomo padre di famiglia mi viene da dire elettore e qua poi parliamo del soffragio universale ma un altro e non è riuscito a scrivermi per quattro ore altro che ti odio sei una merda non ho bisogno di scriverti perché mi fai cagare cioè le sue risposte erano solo queste solo queste e questo non credo sia un caso isolato perché io poi ci provo spesso a fare sto giochino qua cioè a rispondere a quelli che mi scrivono e il 90% sono alla fine cazzo ma hai risposto ma no ma non volevo insultarti no il 90% sono così ma porca troia va bene una dentista l'altro giorno una dentista mi ha scritto tipo che a me piace perché poi ci gioco io con questa roba ho fatto una foto con una scatola di cracker con la farina di grillo perché io tutto quello che Salvini dice di non fare a me viene voglia di farlo è come il papà quando eri giovane ti dice non metterti l'orecchino però te lo metti subito e a me tutto quello che Salvini dice no la farina di grillo ci ammazzerà tutti io subito ho mangiato e ho fatto la foto con la farina di grillo anche perché poi non mi avessero erano dei cracker cattivi anche però non mi avessero detto che c'era la farina normale guai non sentivi nessuna differenza però lì di nuovo mi ha detto ah ah maledetto tu ucciderai la cultura della cucina italiana tra anni saremo obbligati a mangiare la farina di grillo e questa mi ha scritto e a un certo punto le ho risposto perché ho guardato la cosa e questa era una dentista forse proprio di Torino una dentista madre di famiglia che mi aveva scritto tipo merda venduto coglione una roba così sai dove volevo arrivare? al fatto che nessuna di queste persone sarà mai in grado di dire a te che è invidiosa come tu hai fatto con Bialdi ma non lo so guarda la dentista un po' mi ha a parte il fatto che la dentista mi ha confermato una roba che quando ne hai una le hai tutte cioè questa era no grilli no vax no putti è pazzesca quella roba lì cioè io non ho mai trovato uno cioè a me piacerebbe trovare uno no vax pro Zelensky non c'è cioè se sei no vax sei no putti cioè è tutti sei si putti sei è quella quella merda a scendere che adesso chiudo io una volta sono stato ero in un albergo romano alla bocca della verità e sotto di me c'era una manifestazione ancora non c'erano i vax e quindi la manifestazione era no mask perché prima ce li siamo dimenticati vi ricordate che c'erano i no mask e allora io preso dall'entusiasmo per questa manifestazione sono sceso e mi sono mischiato in mezzo ai no mask e ho trovato questa cosa bellissima perché i no mask io mi immaginavo che fossero tutti uguali come i detenuti invece no come i detenuti sono uno diverso dall'altro cioè c'erano i figli dei fiori proprio i figli dei fiori c'è gente così che con le chitarre che ballavano così i nazisti dell'Illinois cioè quelli col fascio tatuato sul polpaccio le mamme preoccupate ma tutti gruppi veri i trampiani cioè questi con viva Trump però non è che erano c'erano l'estrema sinistra l'estrema destra cioè c'erano tutta questa massa di persone una diversa dall'altra imbutate dentro la coglionaggine così ed era fantastico perché ti rendevi conto che le classificazioni che facciamo sono tutte sbagliate cioè che c'è un mondo di deficienti ma deficienti dal verbo deficere che secondo me hai ragione tu su una cosa è che leggiamo troppi pochi libri a proposito di troppi pochi libri poi ce n'è uno di Luca che è il tuo primo libro ed è un giallo ma non è un giallo dai dici due robette su sto chiudi dicendoci due robe è una storia che mi aveva raccontato un mio amico poliziotto e poi io l'ho un po' trasformata è la storia di questi due poliziotti che arrivano chiamati in un palazzo del centro storico genovese trovano un nigeriano un senegalese Mamadou che sta prendendo a calcio una porta fin qua è storia vera sta prendendo a calcio una porta e lo portano in macchia gli dicono smettila e lui dice portatemi in galera e loro pensano e ti portiamo in galera però tanto stavi prendendo a calcio una porta non è che stavi facendo chissà cosa ma poi pensano un'altra cosa manca un quarto a mezzanotte il loro turno finisce a mezzanotte se loro lo portano in questura questa mezzanotte 20 è fuori stava prendendo a calcio una porta loro fino alle 2 devono scrivere per cui cosa fanno lo caricano in macchina e dicono vabbè vi sto raccontando fin qua è tutta vera molliamolo da qualche parte no molliamolo da qualche parte abbastanza lontano che non torni la quindi cosa fanno lo portano all'ospedale psichiatrico al Galliera a Genova per fargli almeno stanotte mi rimane lì quelli dell'ospedale quando lo vedono arrivare dicono che ha fatto questo prendeva a calcio una porta tenetelo qua stanotte perché? eh perché noi abbiamo finito il turno eh sì ma noi lo abbiamo appena cominciato col cazzo che ce l'ho lasciate qua no lo portate via al che e vive fin qua è ancora storia vera poi la storia con te a un certo punto decidono di portarlo al cimitero di Stalieno che è la cosa più lontana ed è il più bel cimitero d'Italia è un monumento lo portano lì lo portano lì lo fanno scendere ma dietro di loro si avvicina una volante della polizia colleghi cosa state facendo? stiamo mollando questo qua perché? perché prendeva a calcio la porta e cosa fate? lo mollate qua ecco il cazzo che lo mollate qua perché questo comincia a far casino qua e noi tra cinque minuti abbiamo finito il turno no non lo mollate qua e quindi parte questo viaggio di questi due poliziotti di questo sedegalese che non sanno dove mollarlo e la cosa che si scopre a metà libro è che nessuno dei due li ha mai chiesto ma perché prendevi a calci la porta? e hai messo i poliziotti? perché se mettevi i carabinieri tu papà ti metti al culo Luca Bizzari grazie grazie ah chiaramente chi vuole comprare il libro la cooperativa liberale della storia ve lo vende volentieri e Luca ve lo firma non so se un altro io mi sono dimenticata mi sono dimenticata di dire prima lo dico adesso che abbiamo aggiunto un appuntamento il 31 marzo con un altro genovese tra l'altro amico di Luca che è Matteo Bassetti da stasera ci si può prenotare una domanda ditegli di non andare in televisione Luca ma Bassetti viene per controbattere quella stronzata che ha detto la viola qua l'altro giorno che il vino fa venire il cervello piccolo infatti avete visto Luca Bizzari che cervello piccolo che ha beve un litro di vino al giorno beh oddio grazie grazie